In questo caso chi lavora nelle aziende ospedali e nell'ospedale, in questo caso chi lavora per le strade, vedi la polizia, vedi i carabinieri, vedi tant'altro, non hanno un trattamento che meriterebbero. Questo lo dico per inciso perché credo sia giusto dare a Cisena quel che è deciso e delle volte nella vita non viene dato. E questo mi fa un po' arrabbiare, le dico la verità. Però voi siete davvero, ritornando a voi, davvero qualcosa di straordinario perché gente che è mancata, gente che è morta, gente che ha vissuto un momento difficilissimo dove nessuno pensava che accadesse ciò che è accaduto e ovviamente non c'erano le attrezzature per cercare di evitare quello che poi è successo. E quindi davvero avete passato un periodo brutto, diciamolo così. Non è finito. Non è finito però insomma adesso almeno avete le mascherine, uso un termine semplicistico. Vede, partiamo da un presupposto. In qualsiasi ospedale, in qualsiasi attività sanitaria il rischio infettivo c'è sempre stato. Sempre. Abbiamo sempre lavorato perché le infezioni sono dietro l'angolo. Un'epidemia, una pandemia come questa nessuno di noi ne aveva nemmeno immaginata. Leggevamo su libri di storia della spagnola all'inizio del Novecento e ci pareva che fosse esclusivamente legata al fatto che non avevamo la tecnologia. Questa pandemia ci ha insegnato che la tecnologia o è a supporto della salute globale, e allora io so che lavoro sulla salute globale, si chiama stile di vita, aria che respiriamo, tecnologie che usiamo in maniera appropriata. Allora se lavoro sulla salute globale poi diventa più probabile evitare la pandemia, perché quando è arrivata noi ci siamo trovati impreparati perché nessuno si aspettava qualcosa di questo tipo. Nella storia capitava un episodio così, ma noi pensavamo di essere molto forti. Nel frattempo avevamo avuto un disastro su vari piani e su vari livelli. Adesso sono frasi fatte, ah non è più la primavera di una volta, ah non c'è più, ma in effetti sta cambiando completamente il sistema. Quindi dal punto di vista anche delle infezioni, noi con le infezioni abbiamo sempre una lotta continua. È una lotta continua. Questo virus, facciamo un ragionamento semplice. Noi stiamo parlando di un virus che ha colpito mediamente in Italia il 6% della popolazione e in Veneto intorno all'8%, in un anno e mezzo, poco più poco meno. Si è ammalato il 10% dell'8%, ammalato che ha avuto bisogno dell'ospedale, di un ricovero. E allora non è poi così drammatica la cosa, invece lo è, perché il nostro sistema non ha retto, non ha retto il sistema sanitario, il servizio sanitario, è stato messo in ginocchio, ma davvero. Secondo lei, gente come me, che lavora per passione, anche se dello stipendio ho bisogno e sono d'accordo con te che siamo... Sono d'accordo però per la cosa che lavora per passione, perché ho avuto la possibilità, vivendo in un ospedale per molti anni, che è così. E lo facciamo con tanta passione e tanta voglia. Secondo lei è più difficile gestire la carenza di strumenti che, devo dire, con un po' di fortuna o un po' di bravura. Chiamiamola come ci pare, ma nella mia attività l'abbiamo avuta. Comunque l'abbiamo avuta alla copertura. Secondo lei, come posso vivere io una situazione in cui c'è una persona che non riesco a curare perché ha paura di venire in ospedale? Ho un'altra che sta malissimo e non posso farla salutare dai suoi familiari? Secondo lei, queste cose qui, sulla mia professione, non hanno inciso? Per noi è stato devastante non solo dover gestire malati molto gravi, non riuscire a curare malati perché non avevamo posti, ma non avere più la possibilità di aiutare nei percorsi le persone. Un moribondo che non saluta la famiglia, secondo lei è una cosa che io vivo volentieri. Cioè è stato devastante sul piano culturale, professionale, umano, dopodiché c'è effettivamente un ragionamento più ampio. E lì sono d'accordo. La scienza in tutto questo ha dato una mano enorme perché un vaccino così veloce non ce lo aspettavamo assolutamente. Quindi le conoscenze sono arrivate. Ma ce ne mancano ancora tantissime. Io ho colleghi che sono stati vaccinati dopo che si erano presi il virus l'anno scorso, che avevano delle reazioni vaccinali pazzesche e non avevano gli anticorpi. Allora dobbiamo capire ancora tante cose. Dobbiamo avere il tempo. Lei mi sta dicendo che stanno andando a tentativi quindi? No, 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 non sono tentativi. La ricerca non va a tentativi, la ricerca va a obiettivi. E se lei guarda, se lei guarda oggi... Però gli obiettivi, per forza di cose, ha bisogno di tentativi. E certo, ma io vado lì e uso una tecnologia che ha una logica, un senso, una razionalità e mi comporto di conseguenza. Non posso andare dicendo, beh intanto provo questo come va. No, perché lì dietro paga prezzo qualcuno. E le assicuro che il prezzo umano di questa situazione, il prezzo affettivo, nel senso ampio del termine, è stato veramente importante. Io ringrazio Dio, ma vedere anziani da soli, tutt'ora è così, perché giustamente impediamo ai familiari di entrare in ospedale, perché c'è il rischio di infezione intraospedaliere. Ci siamo vaccinati tutti per evitare non di prenderci le malattie, ma di trasmetterle. Sono stati passi importanti, scelte decisive, quindi creare polemiche, no, non ci fa bene. E devo dire che in questo senso le donne sono state fantastiche, non solo perché in genere ci mettono la passione, ma perché non hanno bisogno di medagliette. Io glielo dico, non ho mai pensato di fare mai Miss Italia, cioè proprio non mi è mai venuto in mente. Però oggi vedere che il Presidente della Repubblica, ha nominato Cavaliere della Repubblica, il personale che si è impegnato in quella maniera, io vorrei diventare Cavaliere della Repubblica. È una cosa che vorrei tanto avere lo strumento per diventare. E io credo che ce lo meritiamo tutti. Bene, mi sta emozionando, credo nel dire questo che davvero abbia detto qualcosa. Tra l'altro sono anche padovani quelli che sono stati citati cavalieri, tra l'altro sono anche amici. E sono tante donne. E ci sono, è vero, quindi davvero vengo ancora da voi perché abbiamo collegato una collezione.